Si svolgeranno a Lucera dal 4 al 19 giugno prossimi i campionati italiani di categoria veterani e interforze di tennis tavolo. Un evento che torna in Puglia dopo sette anni, cioè da quando nel 2009 la manifestazione si svolse a Conversano nel Barese. Tutti gli incontri si disputeranno al palazzetto dello sport con ingresso libero e con la presenza di oltre mille atleti provenienti da tutta la penisola. L'organizzazione sarà curata dalla federazione italiana tennis tavolo con il patrocinio del comune di Lucera, della provincia di Foggia, della regione Puglia, dello Stato Maggiore della Difesa e del CONI Puglia e sarà seguito dai maggiori mass media sportivi nazionali. Sarà quindi un'occasione da non perdere sia per Lucera che per l'intero territorio provinciale, considerato che per 15 giorni sono previste circa 20.000 presenze tra atleti, tecnici e pubblico al seguito. Un'occasione buona per promuovere il territorio e le bellezze di Capitanata, considerato che già si sta registrando un boom di prenotazione alberghiere dai Monti Dauni fino a Vieste. L'edizione di quest'anno dei campionati di tennis tavolo sarà dedicata al grande campione azzurro Roberto Giontella, noto nell'ambiente del tennis tavolo come Il Pupo, è scomparso prematuramente qualche settimana fa.